Ciao, ciao a tutti, buona settimana, buon lunedì a tutti voi che siete sul mio canale. Come state? Avete passato un felice fine settimana? Io ho avuto tra venerdì, sabato e domenica una crisi fortissima di micrania e so anche perché mi è arrivata appunto questa cervicale potentissima perché ho lavorato tantissimo all'uncinetto ma proprio tanto perché volevo finire la coperta di Pietro che poi nei prossimi video vi farò vedere perché la devo consegnare e quindi ci ho dato dentro e alla fine ho infiammato tutto il nervo qua dietro del pezzo della cervicale e del braccio e è stata colpa mia, lo so perché quando poi abuso dell'uncinetto e della maglia ne pago le conseguenze e quindi sono stata in relax completo anche perché sabato sera mi è ritornato forte il venerdì sera altrettanto tutta la notte e non potevo fare altrimenti e quindi in relax ho lavoricchiato a maglia qualcosina ma proprio poco, ho letto tanto mi sono proprio riposata per iniziare pimpante la settimana spero che anche il vostro fine settimana sia stato un fine settimana dove siate riusciti a fare quello che più vi piace a rilassarvi, a leggere, a fare quello che vi piace ma iniziamo la settimana con il video dei finiti casa ne ho veramente tantissimi, ho visto che era il mese scorso quando l'ho fatto e devo svuotare come al solito il mio bagnetto dove raccolgo tutti i residui finiti anche qua adesso peschiamo a random dal sacchettone e vi dirò cosa ne penso allora, ho finito questo barilotto di additivo igienizzante della omino bianco mi è piaciuto tantissimo, era la prima volta che lo usavo come igienizzante liquido e devo dire che secondo me faceva la differenza perché mi sembrava che i capi uscissero più igienizzati con un profumo più di pulito non lo so, comunque io l'ho aggiunto sia ai capi chiari che ai capi scuri e mi sono trovata benissimo, quindi questo lo ricomprerò sicuramente adesso lo buttiamo nello scatolons, non fa rumore poi, allora di questi ne ho finiti tantissimi ne avevo comprate una confezione con tre flaconi di questo verde che è pulizia profonda e poi una confezione da tre di extra brillantezza non so se li ho finiti tutti in questo video comunque li vedete qua, mi sono trovata benissimo mi è piaciuto tantissimo, le stoviglie anche senza il profumatore perché l'avevo finito uscivano profumate ottimo, ottimo, ottimo mi è piaciuto tanto, tanto, tanto ne ho finito un altro, ma lo iettiamo poi ho finito questo della Dual Power che avevo preso su Top Store Caldarelli bicarbonato e salvia, molto buono anche questo questo ha un profumo, gli altri due erano più limonosi, agrumati questo ha quasi un profumo di, sì, bicarbonato salvia, disinfettante ma un buon profumo e mi è piaciuto molto anche questo quindi, come vedete, i piatti continuo a non lavarli a mano finito il mio amatissimo genio più anticalcare mousse per me è uno dei migliori che ho provato a me piace tantissimo sapete che io ne ho tre o quattro in tutti i bagni tre o quattro tipologie di detergenti per il bagno e questo per me è il migliore, assolutamente sgrassa, scrosta il calcare è buonissimo, ha questo profumo quasi mandorlato mi piace tantissimo lo uso molto volentieri quando lavo il bagno sono contenta perché lo lavo con il genio più mi piace poi, poi, poi vabbè, anche questi ormai ve li ho un po' sono ve li faccio vedere molto velocemente perché sapete che sono i miei preferiti e il lenore e il lenore questa profumazione ginsomino scarlato e rose de may rosa di maggio sarà? che traduzione è buono buono, buono, buono questo barilotto gigantesco fantastico 86 lavaggi no, per me no perché io abbondo lo so, mi direte inquini sto attento da un'altra parte ma a me il quando lavo soprattutto le lenzuola gli asciugamani le salviette io voglio sentire il profumo rimangono veramente molto morbidi poi, come vi dicevo e vi dico sempre ho una lavatrice bomba gigantesca da 9 kg e quindi il carico ovviamente è superiore e quindi me ne vengono fuori di meno di 86 però fa il suo lavoro e poi la profumazione si sente si sente tantissimo anche dopo tanti giorni che li avete nei cassetti come mi piace ma ve l'ho sempre detto il fabuloso anche questo ha una buonissima profumazione fresco mattino buono, 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 buono mamma mia e questi sono un po' i miei top degli ammorbidenti poi finito Deox capi neri e scuri non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché per me non toglie i cattivi odori allora è vero che i jeans le felpe i pile quelli pesanti che usano i miei figli non so rimane sempre quell'odore che non è un cattivo odore ma non è il profumo è buonissimo però secondo me questo non ha fatto molto lavava lavava ma quell'odore un po' di chiuso rimaneva sui capi quindi non mi è piaciuto come invece mi sta piacendo tantissimo il detersivo per i capi neri e scuri di Perlana una bomba stupendo ma lo sto utilizzando adesso poi lo vedete nei prossimi finiti questo mi spiace non mi è piaciuto della Deox purtroppo ho provato varie tipologie di detersivi ma a me non piacciono mi spiace poi ho comprato l'ultima volta che sono andata alla Lidl questi stracci in microfibra che hanno sono mi pare cinque esatto cinque e sono per le varie destinazioni d'uso allora uno per il bagno uno per i vetri uno per la cucina uno per l'acciaio e l'altro per la polvere e devo dire che mi sto trovando benissimo sono ottimi tanto che vorrei ritornare alla Lidl non ci vado spessissimo è un po' fuori zona dalla mia dalla mia zona qui di Lecco fuori zona 10 minuti in macchina però io sono una che ama le cose comode però vorrei andare e prenderne di scorta perché mi stanno piacendo tantissimo e sono molto molto buoni ad un prezzo stupidissimo non ricordo ma costavano veramente poco quindi questi se avete la Lidl vicino ve li consiglio perché io mi sto trovando davvero molto molto bene cioè non che i miei consigli siano da seguire la lettera però a me sono piaciuti molto altro detersivo buonissimo ma anche qui lo sappiamo dove andiamo a parare Dash Power azione extra igienizzante il Dash è sempre il Dash per me è sempre al primo posto come detersivo sia in polvere che liquido è buonissimo di questi ne avevo tre confezioni li sto utilizzando adesso che li avevo presi in un'offerta da acqua e sapone è buonissimo buonissimo lascia i capi profumati puliti e cosa vi devo dire il Dash è sempre il Dash poi finito questo brillantante acqua che ce li ho ancora tutti finito questo brillantante della Dexal buono 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 io sul brillantante prendo generalmente sempre quelli o di basso costo o in offerta questi della Dexal devo dire che fanno il loro lavoro quindi sicuramente lo compro e lo ricompro vale è caduto tutto poi questi ve li avevo fatti vedere ancora e li rifacciamo e anche quelli li ho fatti fuori tutti 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 ecco qua un altro tanto per dirvi che a mano non lavo quasi mai che dirvi che dirvi spettacolare Coccolino Intense Care hanno una profumazione quasi fastidiosa dal tanto che sono buoni e profumati la morbidezza c'è e c'è sempre ma secondo me la linea Intense Care è proprio intensa ma intensa tanto buono 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 veramente ottimo come è buono questo XXL ecco questo mi sembrava leggermente meno denso però come profumazione delicato e soffice ecco ho riscoperto anche il Coccolino il Coccolino era l'ammorbidente che mia mamma utilizzava quando io ero piccola e mi ricordo che insieme al Coccolino c'era anche l'orsacchiotto ve lo ricordate l'orsacchiotto che non mi ricordo se quei punti o lo regalavano insieme alle confezioni comunque io ce li avevo e buonissimo buono 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 poi ho finito i miei sempre home circus ma ormai non ve lo dico più i profumatori per il WC io mi trovo sempre bene di qualsiasi colore essi siano trovo che mi aiutino a tenere il water più pulito profumato mi piacciono e quindi io li compro e li ricompro poi ho finito il profumatore per la lavastoviglie questi che avevo comprato sul sito del DM perché è tanto che non vado più e ci devo ritornare con la mia collega Lella sto aspettando che mia mamma finisca tutte le visite per avere un sabato tranquillo senza pensieri e poter andare a spendaccioare e quindi forse dopo Pasqua io e la Lella ci ritorniamo e sono buoni sono buoni profumano non c'è che dire costavano veramente una stupidata e mi trovo benissimo poi spuma di champagne a lavatrice nero puro anche questo qua secondo me non lasciava nessun tipo di profumo però mi è piaciuto leggermente di più di quello del Deox quello del Deox secondo me non toglieva i cattivi odori del colore del nero ecco questo mi è piaciuto di più ma quello che sto preferendo è proprio il Perlana buono 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 questo sì va bene ok era in offerta e l'ho comprato ho ascoltato i vostri consigli sto continuando mi abbasso a usare il detersivo per i neri anche se quando poi non c'è utilizzo l'altro che va sempre bene lo stesso però devo dire che con il Perlana noto la differenza ecco poi ho finito questo gel lavastoviglie tutto in uno al profumo di limone della Conad e sono sempre buoni ho notato che davvero ragazzi è aumentato proprio tutto 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 tanto 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 anche i detersivi per i piatti ho finito questo buonissimo spice apple cinnamon limited edition che avevo comprato per Natale della GLED nei profumatori quelli automatici ragazzi questo è una bomba questo non è il suo colore perché sto utilizzando l'altro allora glielo ho messo su buono buonissimo veramente c'era questo profumo di spezie di mela candita veramente ottimo 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 se li ritrovo ancora l'anno prossimo in limited edition li riprendo perché sono davvero molto molto buoni lasciamolo qua perché non ci sta poi ho finito invece il Dexal smacchiatore oxy blue anche questo mi piace molto e lo riprendo sempre questo lo trovo sia da Eurospin che all'MD è un chilo di prodotto e mi piace mi piace ecco lo utilizzo soprattutto solo sui bianchi perché ho paura che poi sui colorati con le basse temperature mi rimanga dentro la polverina e allora utilizzo quello quello liquido però questo mi piace molto mi piace molto e quindi lo compro e lo ricompro spesso manca la seme il che poi che ho finito ah niente questa era un rimasullio di spuma di champagne che non mi sono piaciuti come ammorbidenti ve l'avevo detto concentrato non c'è nulla di concentrato il profumo si qua è buono ma sui capi non rimaneva quindi spuma di champagne per me è no come ammorbidente non mi piace poi finita finita anche questa ricarica diciamo ricarica del profumatore della glade relaxing zen molto buona molto molto buona questi li ho in bagno e sono sono davvero molto profumati hanno un profumo molto fresco buono 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 solo che anche questi qua costano un patrimonio un rene veramente e oh ho quasi finito ah ecco qui Maria è caduto qualcosa un altro deodorante per lavastoviglie che è quello che adesso ho ricomprato perché li avevo finiti questi della Dexal sono buoni anche questi davvero questi non trovo la differenza tra quelli diciamo di marca e questi dei vari discount io mi trovo bene profumano lavastoviglie quello che devono fare lo fanno quindi ottimo poi invece vi volevo eh aggiornare sui un altro prodotto che avevo appena comprato da Top Store Caldarelli ed è questo profumatore per il bagno della Airwitch molto 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 buono davvero una profumazione fresca io l'ho messo in bagno vicino ai due lavandini e mi sta piacendo tanto non si consuma tra l'altro velocissimamente come gli altri che avevo preso in gel quindi anche questo è stato un ottimo acquisto non ho più nulla sono stata veramente veloce in questo lunedì di inizio settimana volevo ringraziarvi per tutti i bellissimi bellissimi commenti e per le vostre condivisioni di gioventù di profumi dell'età dell'adolescenza che mi avete lasciato sull'ultimo video grazie grazie davvero ho scoperto che noi ragazze del 70 siamo una classe forte che abbiamo avuto praticamente tutti gli stessi profumi e li abbiamo amati tantissimo e quel video vi ha fatto ritornare un po' indietro negli anni ricordando con gioia ed emozione tante tante belle cose mi ha fatto anche avere qualche scambio con delle amiche che effettivamente sono della mia zona e che hanno vissuto con me quei momenti la mia amica Marisa e la mia amica Anna dopo quel video ci siamo appunto sentite per ricordare con emozione insomma quei bei momenti quindi è stato veramente un video che mi è piaciuto fare perché mi ha fatto ritornare ragazzina ma che mi è piaciuto anche poter leggere nei vostri commenti le stesse emozioni e la mia stessa condivisione quindi davvero vi ringrazio tantissimo perché sono stati dei commenti preziosi ecco io magari non rispondo subitissimo ai commenti dipende poi dal tempo perché non mi piace rispondere con un cuoricino soltanto o magari una frase già fatta mi piace prendermi del tempo per leggervi e per rispondervi in maniera adeguata quando anche voi condividete tanto con me quindi magari non rispondo subito sotto i video ma sappiate che avete visto che rispondo comunque sempre mi devo prendere del tempo per rispondere in maniera insomma sensata ecco quindi di questo vi ringrazio tantissimo vi auguro un buon inizio di settimana qui oggi c'è un bellissimo sole meno male perché dopo queste due settimane di pioggia adesso eravamo anche un po' stufe speriamo che mantenga insomma queste temperature e queste belle giornate vi abbraccio e vi do appuntamento ad un prossimo video e buon inizio settimana a tutti ciao